bella secco se vieni insieme a koku? non lo so, non lo so, sostimerò sinceramente non lo so un briso è buono, troppo solo inizio non so come muovermi camille miglior jungler lo è, lo uno che se vai avanti mi citimo o meno il fatto è che jungler da de jane sono tutti prettamente meccanici, quindi se sei lo è immagino che tu non abbia delle meccaniche troppo consolidate kartus gioca a kartus questo è d4 purtroppo purtroppo è d4 si può su in shoot game e lo so, e lo so e lo so che not molto bene non è troppo male a sto matchup ragazzi si può non scalare perché il tab wg non è troppo bad contro di noi gioco lo steve vegar karapting risetto il vidal così ok ok devo fare il 2 prima di me è morto ok ok regalo doppio trans blade oh e vendo pozione e faccio refiable non c'è neve non c'è neve w e neve flash probabilmente morto senza volerlo utile mi ha fregato il cannone che ecco v va benissimo qua ma le donna sono ancora buone staccate ma in realtà non mi dispiace troppo farle contro champion che hanno molti danni early on tipo contro riven contro jacks non mi dispiace troppo farle con un champion come fiora cazzo alle 14 esce un bel video sul canale youtube tra l'altro editato da me ovviamente vi rendete conto che il mio unico giorno di pausa lo posso editare su youtube? cioè non va bene questa cosa non va per niente bene SS si stacca si stacca si 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 stacca mate l'abbiamo visto una settimana fa oh se mica la vuoi effettivamente stacce e stamoce certo pog e rischi canio non lo fare sto muro per tutta sta farm o se regala non va bene certo almeno regala infatti guarda che jela stima chissà che outplay vuole cercare di fare il signor buco in chat qualcuno me lo vuole spiegare in chat che magari se io non ci arrivo regalo ok ok eh framer devi leggere bene metabuser insane metabuser fatto di uno di quattro perché non giocavo nessun champion metabuser metabuser signor pietro posso avere per favore un punto esclamativo watch time in chat eh una bella impressione giovi una bella impressione ti mette un po' di imbonti e poi pam 21 ore pietro un po' pochine eh considerando che 21 ore le faccio in due giorni di streaming un po' pochine pietro capito diego capito molto bene watch time watch time buona domenica che dio sia con te anche con te signor baolo baolo anche con te metabuser facciamo che ti segui da più tempo a seguire il rivelante il rivelante uno lo mette e poi basta la canna lì eh gas bro questa è la legge 20 minuti bolo 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 beh appassionato al canale da quel che vedo bolo molto appassionato ragazzi grazie si ho tutto il tuo tempo in questa chat ti prendo perché c'è blu hai i vanciano ti prendo ma dove vai vabbè lollo dopo 20 minuti gel sub ma questa cosa è allucinante lollo grazie mille del supporto ti ci prendo il primo mese benvenuto le canne di canne oh oh ma questo ha flashato in oh ma questo è matto buon lollo grazie mille del supporto e benvenuto a live così vi do il proprio qui c'è sul canale e scar bro ok possiamo andare back ok grazie lollo cane basta rinunare l'esperienza di gioco di vokong ma se la sto rinunando se la sto rinunando da solo bro non credo cosa stia succedendo qua c'è gente che è tiltata c'è vokong che non so mi piace il fatto che sono stato schermato anche facendo video del sub flamer jovi f5 in basso a destra con dei video ma guarda quanti followers ho oggi allora ragazzi per ogni followers vi farò vedere un centimetro di pipino super giune due fo a me hanno sempre detto che 10 centimetri era average grazie a te per il sub e benvenuto nelle cagne di cane flamer jovi benvenuto nelle cagne di cane in questo caso siamo a posto grazie mille del supporto signore sballo con twitch prime arriva a red stop hanno tiltato qua grazie mille signore sballo twitch prime primo mese benvenuto nelle cagne di cane riavvi live così non vedrà più l'ubblicità sul canale grazie mille mate punti scrivendo telegram e schere grazie sballone e il signor jovi con il terzo mese con twitch prime nuovo pc sul canale signore jovi in realtà sono due campioni diversi 10 centimetri non manco se me lo conto il buco del culo ci arrivo ma è impossibile bro è fisicamente impossibile ma in realtà dall'anno scorso dall'anno scorso ragazzi ho preso 30 kg sapete però l'anno scorso ero arrivato a pesare 75 kg perché c'ho avuto monoclosi e ho perso 15 kg in un mese così è andato a chiusura le palestre e mi ha distrutto cheque tre buona 30 centimetri c'è un mod dimmi dimmi che ti serve in teoria che dove ci siamo è pezzo perché streamman events aveva si era si è tipo buggato e aveva tutti i follower tipo oh capriamo come bro easy easy bro ma wkong è mid hanno swappato mo che è morto pure il raid secondo me si divertivo stasera che io da 100 e 250 della carnival no faccio faccio solo il 5 e 10 stasera la carnival e poi gioco su 888 e sul gioco digitale e su pokerplex putz secondo me ho info poker chec back back era difficile doggiarlo questo andremo di triforce contro il team no strade beggar tutta la vita cazzo razza lo distruggo è una domanda scomoda se ti credo se poi un attore di qualche anno fa era vero certo bro certo che è una domanda scomoda e non ti risponderò ma fatti i cazzi è uscito il proseguimento è uscito il proseguimento tra l'altro che ha scritto mad la pronostante ieri la vedrete domani su youtube se volete sul canale cat comunque siccome non ci credi ho mandato una foto su insta fa vedere fa vedere un po' il cazzo di mad in un secondo e io non vedo nessuna foto non vedo nessuna foto fallito no no yes no comunque ragazzi oggi giocheremo anche un po' a rocket league nel chilling c'è wkong bot potrei tippare bot non credo che tippero bot continui a pushare non scomoda ti posso sgabello un po' canale di ieri con il bonsanto c'è su twitch cosa la cura non ho finito di vederla io capelli l'ho dovuto eliminare perché c'era un problema di copyright quindi ho vedevitare che twitch riportasse la cosa per il copyright l'ho la verrà caricata su youtube domani quindi domani alle 2 o al mezzogiorno domani a mezzogiorno potete vedere su youtube ragazzi mi sono aspettato un altro po' c'è c'è solo lo spacchettamento dei bonus quindi domani a mezzogiorno alle mezzogiorno si vedete lo spacchettamento della bonus santa no gas bro non mi ricordo bro a parte perché team speaker non l'ho avuto da 5 anni quindi siamo sicuri che ero io no grazie expo non so stare il break e riesco non giocare contro l'hides eh chaos avrei tiltato avrei tiltato E' andato via Rhyzer, non tornerà più Con lo Strabbeca ragazzi lo distruggiamo Serve solo per darlo Nero Wolf, non sono mai stato su Discord con Nero Wolf Comunque era sicuramente 5-6 anni fa Non 3 Attolino Spider-Man E che cazzo è? Rhyzer arriverà a top di nuovo un'altra volta E mi chiederà probabilmente perché non c'ho niente E' stato male l'autotacco Sembra che lui però non lo sa che mi possa killare adesso Quindi becca Ok, abbiamo l'idea della Strabbeca Dislessia, perché che ho detto? Non si è capito il cazzo? Ieri come è finita il bonus hunt Ragazzi, per vedere come sono finite le slot Comunque c'è questo comando che è fatto apposta Per farvi vedere Guardate Tutto è reso conto delle slot Voi lo fate, vi si parla il foglio di Google e lo vedete Poi oltre a ciò, se volete vedere il video Potete andarlo a vedere Su YouTube domani Domani Oggi uscirà la Rational Horror GG Nuova guida del champ quando? Prossima domenica Era 5 anni fa, eh infatti, infatti Mi ricordavo fosse parecchio tempo fa Mi ricordavo fosse parecchio tempo fa 18 E' un'ottima E' un'ottima E' un'ottima E' un'ottima E' un'ottima E' un'ottima E' un'ottima